Musica Un cortele saluto, buongiorno, ben ritrovato a tutti cari telespettatori di Fano TV Sono le 7.30 in diretta qui sul canale 17 per i giornali Allora fa freddo, sono 0 gradi fuori, quindi se state per uscire copritevi bene perché fa freddo Come è giusto che sia, siamo ancora nel mese di febbraio, siamo nel cuore dell'inverno Oggi è Sant'Eleuterio Vescovo, in realtà due sono gli Eleuterio che la Chiesa Cattolica festeggia nello stesso giorno Il primo è un vescovo e martire di Bisanzio, morto intorno al 310 Il secondo, un francese, 456-531, fu vescovo oggi in Belgio Fu ucciso dagli eretici ariani Insomma, ecco, questa è la storia di questi due santi Adesso non so la foto a chi si riferisce Il sole è sorto alle 6.59, tramonterà alle 17.44 Allora, il tempo, dicevamo, questa è la fotografia di Fano alle 7.30 Puntata la telecamera verso nord-est Sulla destra c'è il mare, a sinistra inizia la collina di Monte Giove Tanto per darvi qualche indicazione Dicevamo delle temperature, vedete, 0 gradi alle 7.29 Assenza di vento assoluta Per la giornata di oggi La protezione civile delle Marche prevede cielo sereno poco nuvoloso Con temperature in aumento Per domani, sabato 21, invece, cielo inizialmente poco nuvoloso Con la copertura delle nuvole in aumento Precipitazioni più verso il settore meridionale della regione Marche Temperature ancora in aumento Mentre per domenica, vedete, domenica 22 Il cattivo tempo Con precipitazioni diffuse, anche carattere di rovescio Più insistenti sui settori costieri e centro-settentrionali della regione Con accumulate a fine periodo moderate Il limite delle nevicate sarà attorno ai 900 metri Oltre ai 900 metri Le temperature in diminuzione nei valori massimi In aumento, invece, nei valori minimi I venti di brezza attesa da nord-orientali Con raffiche fino a vento forte Il mare sarà molto mosso Ci sarà la tendenza per i prossimi giorni Ci sarà un breve miglioramento nella giornata di lunedì Qui seguirà una probabile discesa di aria marittima artica Quindi vento freddo Che porterà un nuovo peggioramento delle condizioni del tempo Cominciamo con la cronaca La cronaca questa mattina ci riferisce di una tragedia La tragedia che ha colpito una famiglia Una ragazzina di 17 anni Che è caduta Per ora diciamo così Che è caduta dal secondo piano della sua casa Giulia Quel volo mortale di Giulia che sconvolge Abbiamo provato a salvarla in ogni modo Dicono i vicini di casa Le lacrime dei compagni di scuola Una famiglia che è già stata segnata Dalla morte di un altro componente della famiglia Il padre di Giulia È caduta Scrive il resto del Carlino dal secondo piano della sua casa Finendo nel viadotto Nel viottolo Che porta al garage Un volo di circa 10 metri Che ieri mattina alle 7 e un quarto Non ha lasciato scampo a Giulia Signoretti 17 anni di morciola Studentessa al quarto anno Di liceo classico di Urbino Brillante negli studi Sensibile e capace di conquistarti Con semplicità Vedete la fotografia Giulia è stata trovata agonizzante nel cortile La 17enne ispirata sotto gli occhi della madre Già colpita nel 2007 dalla scomparsa del marito Aveva cambiato istituto Rientrata da alcuni mesi di studio all'estero Era passata ad Urbino Lasciando il Mamiani Di questa notizia drammatica Si occupano ovviamente anche gli altri due quotidiani Il Corriere Adriatico scrive Tragico volo Muore una ragazzina di 17 anni Ottima studentessa del liceo classico Bella e solare Per tre ore I medici del San Salvatore Hanno tentato di salvarla È caduta dal secondo piano della sua abitazione Trovata nella rampa del garage Da un vicino di casa Anche il messaggero nella pagina di Pesaro e Urbino Dramma all'alba Muore a 16 anni La ragazzina è stata trovata agonizzante davanti al garage Tra poche settimane avrebbe festeggiato il compleanno Sconcerto e dolore tra chi la conosceva E dicono era bellissima e solare Deceduta in ospedale per le fratture e i traumi Riportati dopo una caduta di diversi metri Dalla mansarda Le altre notizie da Fano Da Fano dopo l'ex zuccherificio Ieri è stata la volta di Aset È stata approvata la delibera di indirizzo Per la fusione di Aset Spa e di Aset Holding Verso una fusione raffreddata Il titolo, il consiglio approva l'indirizzo E l'opposizione critica Non avete coraggio Poi si è parlato e si parla Sulla pagina di Fano del resto del Carlino Dell'incontro che c'è stato ieri in comune Tra i rappresentanti dei Bagnini E il sindaco dell'amministrazione comunale Cerca e si sabbia disperatamente Incontro in comune Mentre sul turismo Amara analisi del presidente di alberghi e consorziati Cecchini Dice rischiamo di diventare La cenerentola dell'Adriatico Serve più personalità Cantieri navali fanesi Ci sono 146 famiglie Che rischiano il naufragio Domani i sindacati Incontrano i curatori fallimentari Intanto la fotografia Si riferisce a Giovanni Aigotti È un dipendente dei cantieri navali Da nove anni Ultimamente dice Ho lavorato due giorni al mese Ho chiesto aiuto alla Caritas La notte brava dei Moldavi Finisce con un doppio arresto I carabinieri bloccano due ladri responsabili di furti in serie Mondolfo Il passaggio a livello blocca l'opposizione e i comitati La maggioranza respinge tutte le richieste di modifica presentate Finisce pari la votazione sulla proposta della minoranza di fare un nuovo progetto Indagini a Luciross Stolking Una bella trentenne finisce a giudizio Inseguiva senza tregua il suo ex compagno Si tratta di una 33enne di Cattolica Che aveva Non si dava pace Voleva riconquistare assolutamente un 35enne di Gradara Che però a un certo punto non ne ha potuto più E l'ha denunciata Mentre la classica mano morta ha messo nei guai un pensionato di 80 anni pesarese Che adesso è accusato di violenza sessuale Per aver palpeggiato una donna in piazzale Matteotti a Pesaro Ancora dai quotidiani La pagina del Corriere Adriatico di Pesaro La proprietaria del quadro attribuito a Leonardo Evita i PM Cecchini assente Legale il quadro appartiene alla Svizzera La pagina di Fano dopo il no Manca un'idea operativa Ex Zuccherificio Sindaco e PD Assumono solo un impegno generico di revisione della variante Sotto fusione Aset Approvate dal Consiglio le linee guida Vota sì la maggioranza Si astengono a Guzzi Progetto Fano e Forza Italia Fano 5 Stelle protesta C'era una volta Giocando ovviamente sulle parole Era e anche la società bolognese Che punta sull'Aset Caccia ai ladri Due arrestati Uno scappa Ad Orciano la battuta dei carabinieri nella notte Partita dalla scoperta di un'auto rubata La banda è stata intercettata In un posto di blocco Accusati di tre furti E altrettanti tentativi Visitati il Lilli Caffè E un'abitazione a Mondavio Allora è importante dire È importante dire Che non bisogna E questo lo diciamo come Senso per senso civico Forse una volta Forse una volta si poteva anche fare Anche se non è bello da dire Ma oggi no Oggi non si può Che cosa non si può? Non si può lampeggiare Per dire e avvisare Gli automobilisti Che pochi metri più in là Ci sono i carabinieri O le forze dell'ordine Che controllano le macchine Perché mentre un tempo Insomma poteva anche andare Diciamocelo tra di noi Tanti carabinieri non ci ascoltano Ma oggi no Perché i delinquenti sono aumentati E quindi il rischio È di dare vantaggio Ai delinquenti Che stanno sulla strada E ce ne stanno tanti oggi E allora cosa è successo? È successo che purtroppo Qualcuno ha avvisato Che c'erano i carabinieri più avanti E qualcuno erano i ladri Erano i malviventi E allora siccome i malviventi Sono aumentati Rispetto a tanti anni fa Bisogna evitare E lo chiedono anche i carabinieri Ovviamente Ma a questo punto Lo diciamo anche noi Bisogna evitare Di lampeggiare E di avvisare Per non dare Per non dare spazi O per non agevolare la vita A questi malviventi Che si trovano in auto E per evitare quindi Che questi Sfuggano ai controlli Delle forze dell'ordine Quindi evitiamo Di lampeggiare Di usare gli anabaglianti Per avvisare Che ci sono le forze dell'ordine Seri si impegna Per un milione e mezzo di euro Scogliere a Sassoni e Gimarra Accolte le richieste Degli operatori in spiaggia E questa è l'altra notizia Sulla pagina di Fano Del Corriere Adriatico Andiamo avanti Il bidone Marche Nord Era già scritto Danna ricorda Le linee guida Del piano sanitario Il primario Mezzolani I pronto soccorso Sono al collasso Ok E queste sono Le notizie Sulla pagina di Fano Del Corriere Adriatico Adesso andiamo Sul messaggero Il messaggero Apre con Il via libera Il progetto Che prevede Un impianto Polifunzionale Per sport Eventi E Roff A Pesaro Recupero Dell'Angar Da 3 milioni Di euro Pieri Presidente dell'Aspes Ha detto Subito L'appalto Vogliamo iniziare I lavori Il prima Possibile Poi Più sicure Le notti Del giovedì Ma c'è Allarme Per Urbino 2 Il comitato Per l'ordine pubblico Si è riunito Nella città Ducale Exca Amga Invece Il giallo Degli atti L'area Inquinata Dell'ex Amga A Pesaro Al processo Sono emerse Testimonianze Contrastanti Sul sito E comunicazioni Gli orti giuli Chiuderanno prima Per porre Un freno Ai vandali Fino al 30 aprile Il parco Serrerà i cancelli Alle 18 E non più Alle 21 Ma niente Video sorveglianze Chiudiamo con la pagina Di Fano Del messaggero Ex Zuccherificio Addio Ma la proprietà Non cede L'amministratore Dice Per ora Non porterò I registri In tribunale Poi Sulla Fusione Delle due Società Aset Holding Aset Spa La maggioranza Alla prova Della fusione Delle due Aset Poi Meno costi E burocrazia Per le concessioni Balneari Assemblea In municipio Con gli operatori Poi Tensione A Mondolfo In comune Per il caso Sottopasso Sempre sull'urbanistica Massimo Seri Sul voto Ci mettiamo la faccia In consiglio comunale Una decisione ritenuta storica Per lo sviluppo Della città È tutto Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio di trascorrere Una buona e serena giornata Noi ci vediamo questa sera Alle 20 e 30 Con il telegiornale Arrivederci Grazie a tutti A presto A presto A presto A presto A presto A presto Grazie a tutti.